Quarto caso in poche settimane di infezione da meningococco sul lago di Seo al confine tra Bergamo e Brescia. Ma se prima l'epicentro era a Villongo, ora il batterio si è spostato di 7 chilometri più a est, a Predore, nello specifico dove risiedeva Marzia Colosio, 48enne deceduta questa mattina presso il civile di Brescia a causa di una sepsi causata dal meningococco. Ancora da verificare se questo sia di tipo C, come quello che ha fatto perdere la vita alla giovane Veronica Cadei e che ha colpito poi, anche senza ucciderla, un'altra ragazza e un operaio trentenne. Ma data la vicinanza al spazio temporale, tutto fa pensare che la risposta sia affermativa. La paura è che il virus si stia espandendo a macchia d'olio. Sono batteri che viaggiano con l'aria, si spostano con la macchina, cioè salgono in macchina una persona che magari l'ha presa e invece che finì nel polmone o nel sangue, gli finisce nella saliva, fa uno starnuto, un colpo di tosse e lo butta fuori. Certamente non è un batterio che faccia i chilometri, però ama molto gli ambienti abbastanza abitati, frequentati, quindi magari si è spostato con un pulma, con il treno a Travillongo e Predore non c'è, ma magari sono andate entrambe le persone che ne so in un bar, in un ristorante o si sono incrociate in mezzo alla strada e una persona più debole di altre ha permesso al meningococco di aggredirla, quindi è questo il problema. Come fare dunque per scongiurare il pericolo e allontanare le possibilità di un contagio fatale? Bisogna prendere il sole oppure prendere gli integratori di vitamina D, un buon valore di vitamina D è fondamentale per una risposta immunitaria adeguata e in inverno la vitamina D, visto il sole che c'è, non è che ne abbiamo poi tutta questa vitamina.